elezioni in Umbria è stato massacro il centrodestra ha vinto col 59 per cento il 37 della lega più gli 11 dei fratelli d'italia e i 5 di forza italia più varie ed eventuali 59 per cento con un Salvini che è stato preponderante da solo ha vinto sì un po di mano l'ha data la Meloni e Berlusconi alla fine però molto merito oltre a Salvini Berlusconi e Meloni ce l'ha anche la controparte divisi su tutto una campagna elettorale non soddisfacente e si sono attestati al 36 per cento i 21 della locomotiva incredibile del PD l'8 per cento i pentastellati il 7 per cento di vari ed eventuali partiti cosa dire è stata un'edizione a senso unico se l'ha già capito nel maxi poll come sarebbe finita ha dominato in lungo in largo la candidata del centro destra come ultimamente succede in quasi tutte le elezioni l'ultima elezione che non ha vinto il centro destra è stata quella dell'anno scorso delle politiche perché non c'è un vero sistema per andare da soli i pentastellati vanno bene le regioni del sud sicilia calabria basilicata puglia campania l'umbre essendo il centro è comunque stata preda di Salvini Salvini è stato il leitmotiv di tutta la campagna elettorale è stato facile profeta settimana scorsa dicendo che avrebbe vinto a mani basse dal palco di san giovanni a roma ha vinto a mani basse come voleva si dimostrare la sua coalizione per gli italiani con tutte le anime nobili della destra sociale mai fuori posto forse ha capito la lezione che si ha auto inflitto tempo addietro che dire un buon governo al centro destra dominatrice di queste di queste elezioni e una buona opposizione al pd ai 5 stelle sui giornali si diceva che si fosse perso male la cozzaglia non sarebbe più venuta fuori del 5 stelle pd però non ci metto le mani sul fuoco avevano detto anche del governo non mai insieme buon governo alla lega al centro destra